Torna a trovarci in studio Roberto Maggiolini, direttore generale Dr. Glass. Innanzitutto volevo ringraziare Roberto Maggiolini, direttore generale di Dr. Glass, di essere tornato in studio con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, Dr. Glass, una realtà importante sul territorio nazionale, cominciamo da qualche numero, perché tanti tanti cintri e tante riparazioni. Sì, Dr. Glass è presente da oltre 13 anni in Italia ed è presente oggi con 194 centri distribuiti in tutta Italia e quasi 200.000 riparazioni ogni anno. Ormai è limitativo parlare solo di riparazione e di sostituzione perché voi offrite un servizio a 360 gradi, andate anche incontro al cliente nel caso ci fosse l'evenienza. Sì, esatto. Dr. Glass nelle proprie officine, nelle 194 officine, dispone anche di un servizio mobile, di un'officina mobile e quindi abbiamo circa 400 officine mobili che possono raggiungere il cliente nella loro abitazione o nel posto di ufficio senza far perdere tempo utile al cliente e soprattutto con la stessa qualità se per caso uno si dovesse arrecare in una nostra officina. Sì, tra l'altro per la serie il tempo e denaro, problemi di questi giorni, gli autotrasportati in un servizio che allargate anche ai track, ai camion, non solo le vetture. Sicuramente sì, tutte le nostre officine, la stragrande maggioranza delle nostre officine sono in grado di fare delle riparazioni sui track, sugli autobus o su camion e quindi questo è un po' il nostro fiore all'occhiello. Ecco, diceva giustamente riparazione, lei non è un tecnico però c'è una differenza e voi già preventivamente, già telefonicamente riuscite più o meno a percepire il problema e a capire se è sufficiente riparare o sostituire. Sì, ci sono degli standard mondiali che indicano, e noi li rispettiamo, che indicano proprio come e dove poter riparare, fino a che punto si può riparare. Quindi sicuramente nel campo visivo del conducente non è possibile fare una riparazione, ma in tutte le altre parti del parabrezza è possibile farla a seconda naturalmente della dimensione del danno. Noi di Say Drive ogni tanto, anzi sempre, approfittiamo dalla presenza di alcuni tecnici di questi settori particolari per dare anche delle informazioni pratiche ai nostri telespettatori. Ad esempio, la sostituzione di un cristallo è scomoda, ma può essere anche, può non pesare dal punto di vista economico perché tante assicurazioni prevedono la sostituzione gratuita. Sì, chi ha stipulato una polizza assicurativa e ha il danno relativo al cristallo parabrezza piuttosto che un altro tipo di cristallo dell'auto può usufruire di questa polizza e quindi venire nelle nostre officine. Noi abbiamo fatto delle convenzioni con quasi tutte le compagnie assicurative, ne sono veramente tantissime, sono veramente poche quelle che non abbiamo ancora convenzionato. Io ne ho contate circa 35 nel vostro sito. Penso che siano di più. Penso che siano di più. Sono veramente poche, le contiamo in una mano quelle che mancano al nostro palmarès. Cristallo e tutto quello che ci sta attorno. Alcuni mesi or sono, avevo sentito e letto un po' la diatriba sulle pellicole oscuranti. Protezione sì, protezione no. Facciamo un po' di chiarezza anche cosa dice il codice della strada a tal riguardo. Il codice della strada dice che non si può oscurare oltre una determinata percentuale, che semplificando potremmo dire non si possono oscurare il parabrezza anteriore e i due laterali, quindi anteriore destro e anteriore sinistro. Anche perché oltre al lato alla parte che si può oscurare o non oscurare c'è anche una percentuale di oscuramento che non si può eccedere, nella quale non si può eccedere. Molte case automobilistiche escono fuori già con dei cristalli già oscurati, quindi anascono già così e quindi alcune volte non si può andare oltre questa percentuale. Questo per una questione di sicurezza. Di sicurezza. C'è la famosa lezze antimafia, antiterrorismo che evitava di oscurare i vetri anteriori proprio per essere sempre riconoscibili. Nell'evoluzione tecnica e tecnologica, nonché di design delle vetture, si vedono sempre macchine con tanti cristalli, parabrezze che prendono delle curvature strane e vanno fin oltre il classico parabrezza, salgono anche sul tetto. Questo crea delle difficoltà a voi in fase di riparazione o di sostituzione? No, no, assolutamente. Il cristallo è ormai, deve essere riconosciuto come una parte importante della struttura di un autoveicolo, una parte che serve non solo per riparare dalle intemperie, quindi vento e acqua, ma anche una parte strutturale che serve per contenere, in caso di incidente, contenere l'airbag e altri sistemi protettivi. Quindi il cristallo dell'auto è fatto oggi in maniera tale che possa sopperire, possa aiutare anche questa parte qua. E volevo concludere con una battuta da sportivo a sportivo. Dottor Gas è sempre più presente in molti sport, dagli stadi di calcio alle competizioni automobilistiche. Quale sarà il vostro piano di comunicazione e dove vi vedremo in questa stagione? Confermiamo anche quest'anno nelle competizioni automobilistiche, rally, campionato italiano rally e nelle competizioni calcistiche, in altri sport tipo golf, pallavolo, volley e basket. Questi sono i nostri obiettivi per poterci far vedere. Ok, in bocca al lupo ringraziamo Dottor Maggiolini di essere stato con noi e ci rivedremo durante l'anno. Grazie a voi, arrivederci.